mamma mia sto leggendo forza e cuore forza e cuore violetta forza e cuore tu hai sempre sotto nelle partite poi l'inerzia l'arrembaggio ma la vuoi fare una partita di calcio ma è possibile che solo l'inter deve giocare a calcio qui ma scusate iscrivetevi in un torneo di rugby andate a fare inerzia capito all'arrembaggio senza uno schema senza un'idea di gioco minchia pioli ma come cazzo ma tu sei uno dei più grandi miracolati del mondo io pensavo che fosse allegri il miracolato ma tu sei cioè tu sei il più miracolato del mondo sei ma la volete fare una cazzo di partita di calcio a giocare a calcio sì ma tanto basta vincere ma basta io sono stanco io voglio vedere il calcio voglio divertirmi mamma mia ragazzi che squadraccia dopo vengono contro l'intre ne prendono cinque e poi piangono ma che cazzo è normale è è è è